Vieni, manca! Oggi è una giornata di festa per la comunità di Villa Lempa e le frazioni limitrofe. Dopo tanti anni questa comunità avrà una nuova scuola materna, una scuola completamente antisismica, costruita in classe 4, dotata di arredi nuovi sia all'interno e sia nei prossimi mesi verranno allestiti anche dei giochi all'esterno. Sono molto soddisfatta per il risultato raggiunto e ringrazio ovviamente tutti coloro dagli amministratori agli uffici che hanno consentito il raggiungimento di questo obiettivo, ma sono particolarmente felice perché appunto i bambini del nostro territorio finalmente dopo tante vicissitudini avranno una scuola sicura e confortevole dove poter imparare ad essere degli uomini del futuro. Un'opera molto molto importante perché comunque la scuola rappresenta sempre un simbolo per ogni comunità e soprattutto una nuova opera a norma e antisismica in considerazione di quelle che sono le situazioni odierne dà una certa tranquillità, una certa sicurezza a tutto il paese in considerazione dell'importanza e della sicurezza dei bambini e dei ragazzi del luogo. Quindi complimenti all'amministrazione comunale di Cirete del Tronto, complimenti al sindaco Cristina Di Pietro per aver portato appunto al compimento questa importante opera che è una colonna fondamentale di questa comunità.